Ehi! Ehi! Arco! Samp! S! Qui dietro! Poi dietro! Samp! S! Può piccolo giù sentire! Ora voglio cantere! Samp! Uno! Treco! Poi giù! Giù! E quando facciamo questo, il battuglio è circolare! Samp! 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 Può! Ehi! Ehi! A! Samp! 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 Può! Ehi! Samp! Può! Può! Samp! 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 Può! Samp! Può! Pàng Samp! Può! Se chiede quando le frazare il pallino! Uno! Due! !! oppure da qui, 2, 3, andiamo avanti ok? siamo qui siamo 3 un punto del cuore, un punto che è arrivato a continuare 3 1 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 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 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 25 25 25 26 26 27 27 28 28 30 30 30 31 32 31 32 32 32 32 22 33 33 34 34 35 35 35 36 37 36 38 38 39 39 39 39 40 50 qui, BAM, allora BAM, questa è la mia parte, 1, 2, 3, io sto qui, BAM, dentro, dentro, BAM, ma la portata qui, BAM, dentro, BAM, poi, cazzo, BAM, guarda, BAM, dai, un pugno, eh, BAM, BAM, uno, eh, che bene, vediamo, da qui, e la mano destra qua, perché, se lui fa cazzo, questo è la mia parte, non è la mia parte, non è la mia parte, ok, da qui, ai, vai, 3, 2, 3, 1, ciao!